ragazzi e ragazzi ciao a tutti quanti eccomi qui rispettiva rimesso la maschera una cosa molto importante da vedere oggi sabato pomeriggio che per gli americani sabato mattina è stato rilasciato il trailer ufficiale il primo trailer e quindi di justice league novembre 2017 e ora si 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 The others, where are they? Arthur Curry, the Aquaman, it's all him. Organic and biomechatronic body parts You should probably move There you are Whatever you're looking for, it's not me You're the Batman? Ha ha They said the age of humans could never come again That's two What are your superpowers again? A witch Ha 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 Watch her Watch her M. Adams song, baby Shall we? It's good to see you playing while whatever happens again Just like that I dig it Maybe temporary Ma vuoi vedere che quello sarebbe il Gordon? Chissà Non finito, vero? Niente Superman? Va bene Allora ragazzi, questa è stata una cosa molto interessante Vedo che la DC Comics sta preparando il proprio Avengers Perché è chiaro, alla fine sono quelle le situazioni Spero che Zack Snyder non ci deluda e non faccia una puttanata giocoliera Ma mantenga i toni seri, crudi, realistici e a tratti deprimenti e malinconici degni della DC Comics Ci vediamo al prossimo video Un bacio a tutti ragazzi Ciao